Il Signore sia con voi, e con il tuo Signore, al Vangelo secondo Luca. In quel tempo sorse una discussione tra i discepoli e lì essi fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un manciullo, se lo mise vicino e disse «Chi accoglie questo manciullo nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo «Maestro, abbiamo visto un tale che scacciavano i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non è con noi tra i tuoi seguaci». Ma Gesù mi rispose «Non glielo impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi». Parola del Signore. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio che abbiamo ascoltato bene si adatta proprio a questa festa dei nostri grandissimi santi Cosma e Damiana. Nella prima lettura abbiamo ascoltato le tentazioni di Giove. Satana, ci dice Giove, è colui che gira nel mondo cercando di portare verso la rovina gli uomini. San Pietro lo definisce come un leone ruggente che ci sta accanto, in attesa di andare sulla preda, se questa preda gli dà consenso. E invece oggi in questa lettura Dio permette a Satana di dentare le porte, «Però dice non lo toccare con un dito». E allora queste missioni, questa persona che si presenta a Giove dicendo che i frasi che tutto il bestiame è stato portato via e le sue guardie sono state passate a Giove di Spana, uccisi, dovrebbero portare Giove a una prostrazione totale. Poi ancora un fuoco divino è venuto dal cielo e si è attaccato alle mie due guardie e agli allegorati. Sono scampato solo io, ma ancora Giove non dà ascolto, perché Dio sa che Giove è retto. E così con i cammelli, così addirittura negli affetti, con i figli e le figlie che stanno mangiando e con questo terremoto che fanno morire figlie e figlie. Ebbene, Giove non si lamenta, lo Signore. Si alza, si stracciano i vesti e dice «Il Signore è andato, il Signore è accorto, benedetto il nome del Signore». E così Satana è sconfitto, quella sconfitta che viene da ognuno di noi quando non si accettano le grusinghe del maligno. E allora due grandi uomini hanno portato alto il nome del Signore, Cosma e Damiano, di cui noi oggi facciamo festa. E allora chi sono, Cosma e Damiano? Sono due fratelli. Qualche mandirologio addirittura richiama i gemelli. Sono nati in rabbia, ma il padre è morto quando aveva un'utenere età nella persecuzione della cilicia. La madre di Odora prende cura di questi due figli e li porta avanti. Una madre cristiana che lascia il segno nel cuore di questi due giovani. Si trasferiscono in Siria, dove a tempo lo fanno studio della medicina e lo fanno seriamente. Sono talmente stupolosi che riescono addirittura a trovare un farmaco che deve la malattia. Ebbene, questa loro attività la portano nel mondo, intorno alla sofferenza, specialmente dagli amati più poveri. La loro fede viene subito abitata durante le persecuzioni di Dio Prezziano. Ebbene, il primo febbraio 303, ecco, che vengono attestati, vengono giudicati con l'accusa che la loro fede fa contro lo Stato, che il loro credo si oppone alla società. Ebbene, questi due intretti testimoni di Cristo rispondono proprio dal pretetto. Noi adoriamo l'unico Dio in cui crediamo e seguiamo l'unico Maestro che è Cristo. Ciò non fa altro che inasprire l'animo dei loro amici, ed è per loro la fustigazione. Poi, ad ognuno di loro viene messo un sasso al collo e buttato nel mare da un muro. Questo masso al collo aveva legacci troppo grandi, troppo forti, che nessun uomo voleva sciogliere. Ebbene, la gente intretta avvertiva questo momento e elevava Dio le figlie. Ebbene, tutti pensavano la loro morte. E invece, dopo alcuni minuti, ecco, questi legacci si sciogliono dal loro collo, le pietre vanno a fondo, e i santi vengono in superficie, a calma, sani e sani. Questo serve anche alla gente per essere robustita nella fede, perché mi avviscono che è il segno di Dio, è il miracolo che li ha liberati. Gli riavoco, vengono nuovamente presi, e, per questa volta, condannati a una fornaccia ardente. Legati nelle mani e nei piedi, perché non potessero muoversi, vengono gettati in questa fornaccia. Ma l'amore di Dio è più forte della fiamma dell'uomo. E le fiamme non bruciano per niente i loro occhi. Le fiamme non riescono ad accendere neanche il tempo dei loro vestiti. Ed ecco allora che escono ancora una volta, sotto il miracolo, l'azione di Dio, il desi da questa fornaccia. Addirittura, i soldati che sono a custodia di questa fornaccia, scappano lontano, sapendo che è Dio che ha fatto il miracolo. Ma poi ecco alla fine danno il loro sangue per testimoniare quella fede che è incredibile, forte e inconmensurabile nei riguardi di Dio. E allora, se oggi noi ricordiamo agli honori dell'altare, è perché questi due grandi medici, patroni anche di tutti i medici, dei chirurghi, dei farmacisti, degli ospedali, in una parola della malattia, è perché la loro opera veramente è venuta da deviare tutte le sofferenze degli uomini che hanno incontrato la loro strana. E allora ci accorgiamo veramente che per essere grandi davanti a Dio bisogna essere grandi nella fede, nella speranza e nell'amore, così come lo erano a Roma e a Milano, credevano fortemente in Dio, avevano la speranza dell'eternità e amavano veramente il Signore e il buon cuore sincero. Allora, due, affidiamo la nostra vita, quella vita che deve essere veramente piena di fede, di speranza e di carità, di amore, perché solo così anche noi dimostriamo di essere graditi sempre a Dio e di meritare la ricompensa e la prova dell'orgoglio. Un dono nella comunione del Pante. Sia Donato. Grazie a tutti.